ha dedicato la sua vita al teatro e ha dato lustro alla città di torre del greco settima edizione del premio genaro vitiello giovedì sera al circolo nautico un riconoscimento che punta ad individuare non solo quanto c'è di meglio nel panorama teatrale ma anche quello che è stato e che verrà la serata è stata anche l'occasione per ricordare la straordinaria figura del regista scenografo e traduttore di testi inediti premi assegnati a francesca benedetti per una vita in scena natale in casa cupiello spettacolo per attore configuris primavera dei teatri al festival di castrovillari puteca celidonia teatro e società mauro maurizio palumbo con il progetto di performance era mio padre questa è la settima edizione 2023 in ricordo di una persona che ha dato lustro a questa città genaro vitiello un registra un traduttore un uomo che si è dedicato e ha dedicato la sua vita al teatro e non solo attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani che erano e con i quali lavorava e per loro ha realizzato una serie infinita di opere quindi ci piace ricordarlo attraverso le sue testimonianze che di volta in volta in tutte le edizioni porteremo qui a conoscenza ma soprattutto sia di coloro che già lo hanno conosciuto ma soprattutto per far conoscere questa genialità di genaro vitiello che già in quei tempi dava vita ad un teatro sperimentale innovativo sicuramente alternativo il cosiddetto teatro nel garage e quindi riavvicinare i giovani al teatro è sicuramente un bel messaggio per rivitalizzare quella che è la cultura anche qui nel territorio di torre del greco ricordare mio padre è una cosa bellissima veramente noi siamo io sono veramente diciamo commossa per questa cosa nell'85 quando papà morì il primo convegno fu fatto qui al circolo nautico quindi per noi e per me è veramente una una gioia e poi vedo tanta gente vedo tutte le persone che hanno amato papà perché ci sono rinomele giulio baffi anna maria sapienza vuole dire quindi noi veramente siamo contenti per quello che stiamo riuscendo a fare un consiglio per i giovani per intraprendere questa nobile arte io credo che oggi la cultura e la scuola sono gli elementi fondamentali del futuro del nostro paese per cui è stare a teatro entrare in questi mondi in realtà distogli da tutto questo malessere che c'è un po in giro il bullismo troppa comunicazione le cose bisogna ritrovarle metterle sulla giusta linea e credo che la scuola e questo opportunità per esempio anche veramente la scuola di poter fare progetti culturali sicuramente aiuta. Gennaro Vitiello è stato tra i promotori di una sperimentazione in tempi non sospetti che ha gettato le basi per tutta una serie di iniziative che sono poi si sono sviluppate in ambito cittadino e in ambito nazionale il suo sguardo internazionale era per quei tempi una grandissima novità ed è in nome di questa energia di questo di questo stupore che Gennaro Vitiello ha avuto verso il teatro che questo premio intende appunto guardarsi intorno e catturare le energie contemporanee. Cosa possiamo consigliare ai giovani per intraprendere questa carriera? Il talento va accompagnato allo studio, va accompagnato alla ricerca, va accompagnato alla come dire inesauribile voglia di scoprire, di stupirsi. Tutti noi giochiamo con il teatro, tutti noi mentiamo, il teatro è una bugia, è una bugia divertente, è una bugia emozionante, i giovani possono emozionarti praticando quello che è piacevole, cioè mentire, diventare qualcun altro, qualcos'altro, dire parole di altri e farle proprie. Tutto questo si può fare e si può soprattutto vedere andando al teatro. Chi era Gennaro Vitiello? Gennaro Vitiello era un intellettuale straordinario, un uomo colto, un uomo spregiudicato culturalmente che guardava in anni così lontani sempre alla drammaturgia europea. Ci ha insegnato, mi ha insegnato a guardare la drammaturgia di tutto il mondo, a mettere la scena, a interpretarla, ad inventare il teatro. Gennaro Vitiello